Viera, senza vittorie con il Crystal Palace nel 2023, ex Juve a rischio esonero. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Patrick Viera affronta la panchina. Come scrive The Guardian, la posizione dell'allenatore francese è in serio dubbio, dal momento che i Glaciers non hanno ottenuto una vittoria nel 2023. Il presidente Steve Parrish, si legge, sta valutando le dimissioni degli ex giovani per cercare di invertire la tendenza che oggi vede il dodicesimo Crystal Palace in classifica con 27 punti in 27 partite. Ciao! Ciao!